Lei che pensa che la scuterà tra questi due partiti al governo? Ma non vedo due partiti, i responsabili e i responsabili, io vedo la dialettica, diciamo che si può chiamare così, è fra due forze, la Lega e i Cinque Stelle, che sono in campagna elettorale permanente, da quando hanno cominciato, no? Cioè nessuno è in bottega qui, sia chiaro, è in bottega, c'è mica nessuno. Cioè, al Ministero dice, ai loro rispettivi... Ma sì, fai i selfie, fai tre comizi al giorno, quattro giri, eccetera, non c'è nessuno in bottega. Ora, io adesso parliamo di economia, di tutte queste robe, ma stare in bottega vuol dire per portare un quattro a cento, ma lo sappiamo che comincia ad esserci carenza di medici negli ospedali o no? E stanno richiamando i pensionati, e che c'è il blocco del turno, e quando arrivano i nuovi fra quanti anni arrivano? Cioè, problemi così, non so, al nord, se non piove fra due o tre giorni, speriamo che venga un po' d'acqua, ma c'è un'agricoltura in ginocchio, c'è una siccità in arrivo, cioè potrei farne l'elenco lungo. Non si occupa, stanno facendo un'eterna campagna elettorale, dopodiché è evidente che i Cinque Stelle si sono messi nella condizione di avere un vicolo cieco, una strada bloccata, mentre qui c'è Scanzi che è un cultore della materia, ma io voglio proporgli un giochi, un gioco, solo fantasia. Allora, Salvini cosa fa? Sta con i Cinque Stelle al governo in Roma, poi regionali, 3.800 comuni che votano, eccetera, eccetera, fa l'alleanza con l'opposizione di destra, ok? Benissimo. Se i Cinque Stelle si fossero messi in questi anni nelle condizioni politiche e programmatiche di poter, non dico farla, interloquire col centro-sinistra, beh, è un giochino, no? Perché è solo un giochino. Ma dove vincerebbe Salvini?